C'è un segreto che molti non sanno. Il primo passo per diventare scrittori e scrittrici è incominciare a scrivere. Ed è esattamente quello che faremo. Proveremo a superare la paura della pagina bianca attraverso una serie di esperimenti e piccole sfide, ma soprattutto scopriremo che il tempo per scrivere c'è se decidiamo di prendercelo e che la pagina non è mai del tutto bianca se decidiamo di guardare con attenzione. Io sono Lucia Gaiotto e vi aspetto il corso online Classify, una stanza tutta per sé.